Una tredicenne è stata violentata nei giardini comunali della Villa Bellini di Catania da sette persone. Secondo quanto si è appreso, è stato già disposto dalla procura distrettuale e quella dei minorenni il fermo di sei sospettati eseguito dai carabinieri. Un settimo è irreperibile. Sarebbero tutti egiziani e tre di loro non sarebbero maggiorenni. La ragazzina sarebbe stata violentata da due degli indagati sotto gli sguardi degli altri cinque. La tredicenne era con il fidanzato che è stato minacciato, bloccato e tenuto lontano. Gli abusi sarebbero avvenuti nei bagni pubblici della Villa Bellini.